ciao ciao tesoro prego sediti accomodati si mi ricordo ci siamo sentite giorni fa e mi hai detto che volevi venire a trovarmi in casa a casa mia hai fatto benissimo ecco di qua volevi venire a trovarmi perché hai una bellissima notizia da darmi io sono qui pronta ad ascoltare tutte le notizie dimmi tutto che succede nella tua vita va tutto bene si ok siediti prego vuoi un cuscino dopo ok mi stai facendo preoccupare cosa succede tesoro ma veramente ma è bellissimo si sono emozionata per te sono contentissima tesoro farti dare due baci hai visto scusa amici tutta tutta rosa anche sulle labbra ma parlami di te questa bellissima notizia perché non me l'hai detto prima sono super contenta tesoro ecco perché sei così raggiante stupenda che bello sono contenta tieni adesso lo vuoi il cuscino così sei più comoda certo tieni tesoro ecco appoggiati pure te lo metto qui ok tieni ok siete ti sei comoda perfetto allora oggi mi dicevi che cosa avevi bisogno di che cosa volevi che cosa volevi non posso parlare sì guarda sì guarda i miei capelli sono una pazza sembro una pazza e più li perdo guarda è un periodo brutto 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 per me ma sono contenta invece per te per questa notizia bellissima tieni questo che ti vedo accaldata tiriamo sui capelli ok perfetto voilà ok così soffri meno il caldo tesoro come va stai bene hai mangiato stamattina ok cosa hai mangiato di buono fette biscottate con la marmellata riesci a mangiare sì bene sono contenta dai arriveranno un po' di nausee mi sa eh sono già arrivate ah caspita al mattino sì quando ti alzi caspita mi dispiace però dai se passano va bene ti accarezzo un pochino con questo bel pennello il viso guarda che bello tutto rosa anche il pennellino sì molto bello veramente tu rilassati non ti preoccupare cerca di stare il più rilassata possibile sei comoda mi hai detto sì bene perfetto adesso mi occupo io di te ti rinfresco un pochino la pelle perché ti vedo accaldata con delle salviette con delle salviette rinfrescanti queste salverò da bambini ma non mi aspettavo che aspettassi non mi aspettavo che mi indicessi questa bellissima sorpresa questa notenzia guarda sono felicissima sono veramente contenta sì contenta te lo meriti te lo meriti tesoro tutta la felicità di questo mondo tutte le cose belle di questo mondo ti meriti assolutamente sì te lo meriti tesoro certo lo sai che ti voglio bene se hai bisogno qualsiasi cosa sai che sono qui puoi telefonare puoi anche venermi a trovare non ce l'hai ma nessun più fidanzato sarà felicissimo lo sa già ah sono la prima a saperlo ah sono la prima a saperlo caspita grazie che bella che bella sono veramente contenta felicissima tu rilassi un po' di cringling sound un po' di sticky sound un po' di sticky sound ok rilassati al massimo mi raccomando non pensare a niente adesso ti passo questa bella salvietta fresca sul viso perchè ti vedo molto accaldata tesoro ok senti com'è bella freschissima ok te la lascio in posa tu riposati puoi anche chiudere gli occhi te la lascio qualche secondo sul viso ok così perfetto è bellissimo vero vuoi anche tenere gli occhi chiusi anche se ti tolgo la salvietta stai tranquilla non succede niente me la passo anch'io eh perchè fa veramente caldo guarda anch'io sono nata in questo mese mi fa veramente piacere guarda non sai che bello quindi il tuo fidanzato sarà contentissimo forse più contento di me si sono contenta per te sono veramente contenta si ma certo te lo meriti tesoro adesso magari soffrirai un pochino per le nause hai già avuto qualche giramento qualche dolorino si io non ho figli lo sai però ho saputo da persone che ne hanno avuti che non è una cosa facile però tu sei forte quindi andrà tutto bene ce la farai ce la farai vedrai poi hai me hai i tuoi genitori hai il tuo fidanzato e anche i tuoi animali dei domestici come stanno i tuoi animali i tuoi cagnolini stanno bene sono contenta hai anche un gatto vero? Milu una gatta certo me la ricordo bianca e nera sì e quando glielo dirai al tuo fidanzato stasera wow allora devi essere bellissima come glielo dirai raccontami sai che sono curiosa sì con una bella cenetta brava la cosa migliore la semplicità è la cosa migliore faccio un po' di tapping ti rilassa ti piace? ottimo adesso ti passo uno spray solo con un po' d'acqua un fissante sì è solo acqua H2O non fa male tranquilla lo so adesso poi con questa notizia con questa nascita con questa attesa sicuramente userai prodotti solo biologici sono naturali e copio il 100% e fai bene brava anche io qua cerco sempre di avere sia per me che per la mia famiglia guarda che sono sposata no? cerco sempre di avere dei prodotti naturali anche se non tutti non sempre riesco ad attarli ti spruzzo un po' di quest'acqua anche occhi chiusi certo ok 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 ho fatto un po' di tosse ho fatto un po' di tosse ma sono veramente felicissima di questa notizia sono contenta per te e per il tuo fidanzato sarà felicissimo anche lui vedrà e farà salte di gioia poi magari se vuoi domani ci risentiamo e mi dici com'è andata ok adesso ti do leggermente un pochino di trucco non vuoi? ti va? si lo so che usi solo colori chiari ti trucchi poco non ti preoccupare faremo il possibile per renderti bella anche con poco trucco già sei bellissima di tuo e poi così luminosa sei ancora più bella ok guarda oggi useremo questa palette che ti ho già fatto vedere che abbiamo già usato Pink Fizz della I Heart Makeup I Love Makeup Makeup Revolution l'hai già vista vero che te la ricordi? ecco lo sapevo quale colore vogliamo usare? io direi questo qui e piuttosto prima usiamo questo questo chiaro e poi sull'angolo un pochino di questo qui bronzato guarda ti faccio uno swatch vedi? questo è un color ramato bronzato bellissimo e l'altro è un rosa super chiaro preleviamo un po' vedi com'è bianco è un bianco super chiaro ok vado ad applicarlo ad applicartelo ma prima ti uso aspetta questo è Drink Shampairs noi quindi andremo ad usare è Girl e Pink Fizz ok Girl questo e Pink Fizz che è l'ultimo colore anche dal nome alla palette ok ma prima visto che ti occhiai e non ne hai poi ti uso mascara dopo voglio metterti un po' di questo sì crema con tornocchio crema con tornocchio e la rosa canina questa della Lidl della Cien ed è completamente biologica Cien Nature la uso anch'io quindi fidati di me ne metto proprio una punta una puntina vedi com'è l'erogatore perfetto ne mettiamo proprio pochissima vedi la crema bianca e ne mettiamo giusto un po' sulla tua palpebra fa anche come primer fa anche da primer ne mettiamo un pochino tu usi sempre una crema idratante come mi ricordo vero? sì perfetto qua sotto vado a mettertela sono veramente contenta guarda e stasera andrà benissimo cosa gli cucini di buono al tuo ragazzo? le lasagne wow wow cadrà ai tuoi piedi sicuramente ok e visto che siamo tra donne che nome ti piacerebbe dargli alla bambina o al bambino? Sofia bello mi piace e se un maschitto Lorenzo o Simone bello mi piace brava ottimi gusti ok adesso si asciuga non ti preoccupare in fretta si asciuga tu picchiettalo un pochino anzi lo faccio io posso vero? ok quanto sei bella ok con lo stesso pennellino questo qui dalla punta sottile vado a prenderti quei due colori e facciamo un piccolissimo trucco va bene? perfetto chiudi l'occhio te lo tiro un pochino voilà anche dall'altra anche dall'altra ok 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 adesso scusa le campane ti rilassano ah bene mi fa piacere a me danno fastidio ok prendiamo questo bel colore un po' più scuro e lo metto qui nella piega dell'occhio come si chiama già il tuo fidanzato? che mi sono scordata Andrea 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 sai contentissimo hai una fidanzata bellissima e oltretutto aspetta fuori un bimbo che meraviglia è la cosa più bella che una donna secondo me possa fare ok ok scusa i vicini tesoro sai che qui lavorano sempre fanno casino poi siamo nell'ora di punta quindi hai voglia rumori a cocò ok ti metto un pochino di mascara e il rossetto che è un lipgloss che ho io indosso ti piace ti metto anche quello il mascara uso questo che mi piace lo uso anch'io ok sono contenta che guarda su che me l'hai detto questa notizia bellissima sei dolce attesa sono veramente emozionata felice contenta tutte le cose più belle di me e di tesoro mio ok chiudilo bene se non si secca mi raccomando anche tu a casa questo è il rossettino che sarebbe un lipgloss che non è per niente opaco ma è della collezione della essence matt matt ed è quello che indosso numero 03 girl of today adesso è anche da rimettere che si sta togliendo mezzo comunque qualche ora magari te lo posso anche regalare ne ho un altro uguale ti piace? mettiamo questo fino a stasera te lo puoi rimettere un paio di volte e durerà poi mangiando non dura però se hai la nausea al mattino è meglio toglierla e non tenerlo anche mangiando mi raccomando segui un'alimentazione sana tesoro mi raccomando non mangiare schifezze porcherie ok perfetto sei bellissima lo eri già quando sei arrivata ti ho visto una luce diversa negli occhi sei una meraviglia uno spettacolo da quando ti conosco sei bellissima ma oggi lo sei ancora di più ok congratulazioni per questa notizia bellissima sono veramente stra stra felice super felice per te e per Andrea fammi sapere poi domani o nei giorni a venire com'è andata la serata di stasera è la grande notizia ok ciao tesoro a presto cerca di rilassarti pensa positivo andrà tutto bene un bacione a presto